Buongiorno amici di Mattoscacco, volevo lanciare una nuova idea per un nuovo format e fatemi sapere con tanti commenti qui sotto che cosa ne pensate Mi chiedete in tantissimi l'amicizia su chess.com, io ovviamente appena entro dentro accetto tutti E volevo prendere in modo random uno di voi, ogni puntata uno di voi e andare a commentare un pochettino le sue partite Ovviamente sceglierò giocatore che hanno un punteggio più basso del mio, altrimenti non avrei nulla da dire E cercherò di dare la mia visione, i miei consigli per cercare di fare quel salto di qualità Quindi magari analizzeremo un pochettino lo stile di gioco e cercheremo insieme di capire che cos'è che impedisce a quel giocatore di fare il salto di qualità Quindi in questo caso ho scelto Lighthouse Keeper 9, si chiama RosRub, se vedi il video lascia un commento E innanzitutto che cosa notiamo? Io noto che questo giocatore gioca solo partite rapid che è ottimo Ragazzi se volete migliorare a scacchi la risposta è le partite rapid, non quelle blitz Cioè non quelle che hanno il fulmine ma quelle che hanno l'orologio qui accanto Allora andiamo a vedere magari le partite perse, questa è una partita persa in 11 mosse quindi ci sarà stato qualche svarione Andiamo qui, partita persa in 25 mosse, vediamo che cosa è capitato al nostro amico Non mettiamo il motore, cerchiamo di commentarla così in essere umani poi al massimo se non riusciamo a capire alcune cose attiviamo il motore Allora E4, D6, difesa moderna, D4, cavallo F6, cavallo C3, G6 Fin qui tutto a posto, diciamo si sviluppano i pezzi in modo va bene, va bene Forse mi chiedo se non sta un pochettino meglio in C4 rispetto in C3 Poiché in C3 si dice che va a sbattere contro il granito Quindi forse alfiere C4 è un attimino meglio Infatti se notiamo qui la barra laterale di jazz.com dopo alfiere D3 c'è un piccolo abbassamento del vantaggio Ok sono cose microscopiche ma se si vuole migliorare Perché finché siamo ragazzi a 400 punti elo è facilissimo salire perché ci sono tante cose da scoprire Ma man mano che superiamo i 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1500, 1600 I miglioramenti sono talmente piccoli che bisogna fare attenzione a ogni singola mossa Alfiere G7 quindi il nero vuole arroccare il primo possibile mi sembra assolutamente una mossa corretta Alfiere in E3 qui non sono totalmente d'accordo anche qui non è sbagliata questa mossa Ma un principio dice prima i cavalli, prima si sviluppano i cavalli e poi gli alfieri Ripeto sbagliata non è perché prima o poi bisogna sviluppare tutti i pezzi Arrocco corto, donna di 2, allora è tutto chiaro, è tutto chiaro che il bianco vuole arroccare lungo La domanda che mi pongo è era necessario arroccare lungo a questo punto? Allora noi teniamo in considerazione che l'arrocco corto 9 volte su 10 è migliore e più sicuro rispetto all'arrocco lungo In questo caso dove il nostro avversario ha fianchettato e ha già magari un alfiere che punta sul nostro re arroccato lungo Magari non è la migliore delle posizioni E' anche vero che magari questo può ricordare in qualche modo il dragone della siciliana E ormai abbastanza risaputo che il dragone è buono per il bianco C5 ci sta trasformando veramente in un dragone Cavallo F3, arriva questa che non è più un'inchiodatura perché non c'è più dietro la regina E bisogna capire se comunque questa cattura crea noia oppure no Questo è assolutamente da decidere H3, il bianco crede che non sia un problema Neanch'io, forse mi sarei fatto tanto un problema di stato Fin qui io credo che sia tutto ok Il cavallo viene sviluppato in C6 Adesso il nero ha una grande pressione anche a raggi X verso il centro Non so quanto riuscirà a tenere Anzi adesso si minaccia proprio anche questa cattura Alfieri in H6 per sfianchettare, per fare la manovra di sfianchettamento forse bisognava preoccuparsi del centro Ecco fosse stato il nero forse sarei andato addirittura di cavallo Qui questo cavallo è attaccato, il bianco lo mette qui in avanti Andando a chiedere un ulteriore cambio Grazie a questo cambio diciamo i pedoni diventano ancora più sfaldati E ora c'è un attacco doppio che si può difendere con Ok, mossa intermedia Ok La cattura su F3 ha portato al doppio Sì, allora E beh qui dopo cavallo F3 la partita continua per altre mosse Ma mi sembra ovvio che la partita sia finita Allora, errore commesso qui dal bianco E' il classico errore che io dico sempre ai giocatori sotto i 1500 di non fare Non fate le figate ragazzi Non fate le figate Un avversario vi sta attaccando un punto Difendilo Alfieri 2 per esempio La prima che mi viene in mente Alfieri qui forse c'è F5 Quindi ti attacca un punto Difendilo Quando tu cerchi di fare le figate in mosse intermedia No, aspetta che io ti contrattacco qui Bravissimo Peccato che qui ora il nero ha cavallo F3 E finisce la partita Quindi Primo errore Prima cosa che posso notare di questo giocatore E' che tende magari a fare Quelle figattine Quelle mossettine Che fanno magari GM Che però noi non siamo ancora GM Non ce lo possiamo ancora permettere E andiamo a perdere una partita Che secondo me Era assolutamente Assolutamente recuperabile Andiamo a vedere un'altra Un'altra partita Sempre perse Perché quelle perse sono più didattiche Ovviamente Ragazzi Quando dovete analizzare Cercare di migliorare il vostro gioco Andate sempre a Prendere quelle Le partite perse Da qui c'è già l'analisi del motore Volevo evitarla Come faccio a togliere l'analisi? Così Ok E4 C6 Difesa Karokan Mi ricordo sempre Dragon Ball Karokan Ragazzi Vi ricordo che Per chi vuole progredire a scacchi C'è la nostra Accademia di Matto Scacco Scrivete su Google Matto Scacco Academy Trovate tutti i corsi Ogni corso Per ogni esigenza Chi vuole migliorare l'attacco Chi vuole migliorare la difesa Chi vuole imparare a fare piani di gioco Ok Qui diciamo Il bianco decide di giocare in maniera assolutamente semplice Fin qui Tutto ok Consolida il pedone D4 Sono assolutamente d'accordo Scacco Alfirine 3 E adesso Ok Avrei arroccato perché Non mi piace troppo stare Con questa inchiodatura Però va bene Donna C2 ovviamente Minaccia H7 Difende H7 con il cavallo Arrocco lungo Abbiamo capito che il nostro amico piace l'arrocco lungo E forse questo è un bug È un bug perché Non bisogna affezionarsi alle cose Se è una cosa che ho capito a scacchi È che non bisogna affezionarsi ai piani di gioco Che se il gioco cambia Bisogna essere pronti ad abbandonare quel determinato piano Non bisogna affezionarsi a un pezzo Mi piacciono i cavalli Quindi vado a muovere sempre solo il cavallo No Bisogna essere pronti a dare i propri pezzi preferiti A cambiare i piani È ok l'arrocco lungo Probabilmente perché Stiamo scoprendo che il nostro amico è un giocatore d'attacco Però Essere un giocatore d'attacco In realtà oggi Oggi con la teoria moderna di scacchi Non vuol dire niente A volte bisogna attaccare A volte bisogna difendersi A volte bisogna giocare di profilassi A volte bisogna giocare chiuso A volte bisogna giocare posizionali A volte bisogna fare delle mosse d'attesa Quindi Giocatore d'attacco Oggi 2024 Secondo me vuol dire tutto Non vuol dire nulla Assolutamente Arrocco corto Era la risposta più sicura Arrocco lungo Con questo pedone C avanzato Non so quanto possa far bene Arriva questa piccola inchiodatura Che questa volta non fa paura a nessun tipo Poiché dopo può seguire una torre sulla colonna G Ok Secondo me questa è stata una perdita di tempo Perché questo cavallo in realtà Non è che fa granché Questo cavallo può diventare operativo Se riesce ad andare in F5 Ma se viene catturato Secondo me l'apertura della colonna G Male non è Quindi Un piccolo imprecisione Sono d'accordo Con il motore H3 Si ritira l'alfiere Che adesso attacca qui Re B1 Una manovra tipica In caso di arrocco lungo Ragazzi Re B1 Si gioca a 9 volte su 10 Arriva l'avanzata dei pedoni Per cercare di smantellare L'arrocco lungo Adesso credo che ci voglia anche Un piano di gioco per il bianco Perché Non è facile capire come attaccare Ok abbiamo capito che la batteria Donna alfiere Non porta nulla Perché c'è il cavallo che difende Abbiamo capito che questo alfiere Non sta facendo nulla Questo cavallo non sta facendo nulla Quindi Come minimo cercare di portare il cavallo in F5 Così si riporta A ridosso del re Magari può essere cambiato con l'alfiere E se magari Al nostro avversario Quel cavallo Da così fastidio Sarà lui A cambiarlo a noi Ma qui in F3 Non sta facendo assolutamente nulla Oltre che essere magari In tralcio A sviluppi dell'alfiere Su altre diagonali Ritorna ancora in D3 Con l'alfiere Ma abbiamo capito Che questa batteria È bella da vedere Ma non porta nulla Ma non porta nulla Forse 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 Qui una spintarella Ci stava Forse qui una spintarella Ci stava Perché nel momento in cui Vai ad aprire le linee Adesso Spero che Nero Abbia catturato col pedone Esatto E adesso Adesso sono guai C'è anche Donna a 5 Questo è un autogol Autogol Quando arriva Un attacco così Sul tuo re L'obiettivo è tenere tutto chiuso E con C4 Il bianco avrebbe tenuto tutto chiuso Anche in caso poi di spinta Si potrebbe eventualmente Ancora spingere Per tenere chiuso Ma vediamo invece Come è andata la partita Ok Qui C'è questo pedone C6 Il bianco Diciamo Non riuscendo a vedere Granché Si fa ingollosire da questo pedone Ma ovviamente Forse gli sfugge Che c'è ora qui Un attacco interessante Ok Forse era meglio D'alfiere Era assolutamente meglio D'alfiere Perché Perché in caso di re C1 Arrivava ovviamente questa Con inchiodatura Eh sì E in caso di re A1 Non ne parliamo neanche Che ci sono i scacchi di scoperta Come per esempio Alfiere D5 Buoh Buoh Ok Quindi invece in partita Diciamo il nero perde Diciamo Il treno Perde il treno Qui arriva questa Molto interessante Aspetta qui Mi sono perso qualcosa Il nero fa Ora lui Una mossa intermedia Regalando una torre Scacco Ah pensava che forse era matto Scusa Pensava che era matto Ma non è matto Perché in caso di questa 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 Non è matto Ok Eh Magari Magari rischio esatta Ma non è matto Il bianco Pensando di ottenere matto Sacrifica la regina E qui Abbandona Ok Che cosa possiamo dire Di questa partita Allora ancora una volta Cosa possiamo dire Di questo giocatore Credo che se la sia Cavata abbastanza bene In apertura È troppo affezionato All'arrocco lungo E all'attacco Sul re Qui Idee poco chiare Secondo me Perché abbiamo visto Questo alfiere Che è andato in D3 Poi da D3 è andato in E2 E poi da E2 è tornato in D3 E qui bisogna sapere Come organizzare I propri pezzi Per un attacco Sulla nostra Matto Scacco Academy C'è il corso per esempio Attacco Creativo Realizzato dal grande maestro Andrea Stella Che spiega come Creare un attacco Dal nulla Coordinando In maniera Armoniosa I propri pezzi Qui bisogna Sapere cosa fare Altrimenti Altrimenti questi alfieri Sono solo belli da vedere Ma non fanno nulla di che Qui Una Diciamo Errore posizionale Nel senso che Ti arriva Quello che viene chiamato Il pound storm C'è questo storm Di pedoni Contro il tuo re Quindi Secondo me Cercare di tenere Chiusa la posizione Invece l'apre Qui si lascia ingolosire Non vede Cose importanti E poi Errore del nero Ma poi Errore forse ancora più importante Da parte Del bianco Ok Io vedrei ancora Un'altra partita Se vi va Questa qui Durata 21 mosse Durano molto poco Queste partite Almeno queste qui Che stiamo analizzando noi Guardiamo che Sempre senza motore Così Umani Ok In questo caso Va a sfidare un giocatore Più forte Ucraino Già Quelli dell'est Sono più bravi E secondo me 1350 Dell'est Valgono di più Dei 1350 italiani Ok B6 Un'apertura Anche questa Moderna Ok D6 Non mi convince In genere Diciamo L'apertura Del fianchetto Va In contraddizione Con questa spinta Così come Quando apre il fianchetto In contraddizione Con questa spinta Però Se mi è un'apertura Magari sta giocando Un ippopotamo Quindi cavallo D7 Diciamo Eccolo qui Sì Una sorta di ippopotamo Sta giocando Ok Qui inizia ad essere Tutto strano Molto strano Ok Vediamo che cosa Che cosa gioca C'è pressione qui Può far finta di nulla O può spingere Qui decide di dare L'alfiere Il bianco E spinge Ok Ok Allora Che cosa non mi piace Di questa posizione Non mi piace che Qui bisogna Allora Nell'accademia Di metto scacco Ho creato un video Molto lungo Riguardante I cambi Se voi ci fate caso Quando fate anche Molti esercizi di tattica La maggior parte Delle soluzioni Stanno I colpi tattici Stanno dietro i cambi Quando si fa un cambio Non è mai un cambio così Si dice sempre Che il valore Dei pezzi L'alfiere vale 3 punti Il cavallo vale 3 punti Oppure l'alfiere Vale 3,15 Il cavallo 3 punti Comunque All'incirca valgono uguali Ecco Nel momento in cui Io vado a cambiare Un mio alfiere Per un cavallo Sapendo che qui Poi tra l'altro Tornerà un altro cavallo Che cosa ci guadagno La mia domanda è Che cosa ci guadagno Quindi in questo caso Quello che posso vedere Da questo giocatore Che quando magari Non sa che cosa fare Cambia i pezzi E questo è un atteggiamento Non da professionista Il professionista Sa sempre Quando cambiare Il professionista È un commerciante È un commerciante Che fa uno scambio Fa una compravendita E quando fa lo scambio Ci guadagna sempre E tu devi essere Con la mentalità Del commerciante Cioè quando tu fai Uno scambio Devi guadagnarci E qui quello che devi chiedere Cioè Su questo scambio Che è che ci guadagna Io O ci guadagna il mio avversario In questo caso La risposta è Ci guadagna il tuo avversario Che ci ripiazza Un altro cavallo Anzi Sviluppa questo cavallo Lo mette in gioco Che non sta facendo niente Qui addirittura Il nero va con la regina E ora Che è rimasto solo L'alfiere campo chiaro Che controlla Le case chiare Errore Strategico Bam Spinta in D5 Ora praticamente Si è andata a formare Una piccola catena Di pedoni sul bianco Che impedisce All'alfiere Di attivarsi Di controllare Importanti diagonali Quindi Abbiamo dato l'alfiere Camposcuro Ciò significa Che lavoreremo Probabilmente Sulle case chiare Ma ci stiamo andando Da soli Ad autobloccare Le case chiare In più Noi Pensiamo sempre Che spingere avanti I pedoni Sia sempre importante Perché ci hanno sempre insegnato Che il vantaggio di spazio È una cosa importante Ma Ricordiamoci sempre Che ogni spinta Di pedone Corrisponde E crea Un buco Crea una debolezza Ok Abbiamo invaso La metà campo Avversaria Perché questa è la metà campo Del nostro avversario Quindi Siamo riusciti ad entrare Nella sua metà campo Ottimo Ma noi sappiamo Che i pedoni Sono forti Quando sono allineati Immaginiamoci Un esercito La prima fila I soldati Deve essere allineati Perché Perché se io vedo In diagonale Questi pedoni Che caselle controllano Io praticamente Ho le caselle C5 D5 E5 Ed F5 Tutte controllate Nel momento In cui Io vado A Interrompere Questa prima fila E si è creato Un buco In C5 C'è un buco Quindi Prima controllavo Qui Il cavallo Non poteva Insinuarsi Lì dentro Ma Insediarsi Scusami E ora Cavallo C5 È possibile Non so che cosa Ha giocato il nero In questo caso Arrocco lungo Pessima Pessima Soluzione Pessima soluzione Sia perché Il bianco Ha i pedoni Che puntano Su questo lato Quindi attaccherà Su questo punto E poi credo Onestamente Che questo arrocco Sia molto debole Perché Perché manca Il cavallo In C6 I cavalli Ragazzi Il cavallo C6 Il cavallo F6 Sono i migliori Difensori dell'arrocco Quando non c'è Quel cavallo Evitate di arroccare In quel lato Poi Queste regole Così generali Bisogna sempre Catapultarsi Singolarmente In ogni situazione Però Attenzione Donne 2 Qui Da quello che ho capito Il nostro amico Ancora una volta Tenta di fare L'arrocco lungo Perché Donne 2 Perché vuole Sfianchettare E fare l'arrocco lungo Credo Ma qui Urge Arrocco corto Perché questi pedoni Mi serviranno Per sfondare il re Vediamo se Il nostro amico Farà un arrocco lungo Donne 2 Manovra di sfianchettamento Cavallo in C5 Che attacca Questo alfiere Ed impedisce Lo sfianchettamento A4 A6 Ora forse C'è qualcosa Nell'area Vediamo B4 Cattura Cattura Bene Ora Questi pedoni Sono molto interessanti Il bianco Quando spingerà Dovrà evitare Che il nero Possa andare ad incastro Perché se il nero Incastra È difficile Può attaccare Alfiere 7 B5 E infatti Quello che ho detto Prima E A5 Incastro Ragazzi Non bisogna avere fretta Allora Quando ci sono i pedoni Così che si guardano Voi ne spingete uno E l'avversario Incastra Dall'altro lato Bisogna essere Molto ma molto bravi A progettare Un attacco Ed eventualmente Anche un sacrificio In che modo Io posso evitare Che Che il mio avversario Incastri Eh Bisogna andare A progettarlo bene Innanzitutto Io avrei Come minimo Arroccato Come minimo Raddoppiato Le torri Sulla colonna A E fatto di tutto Per cercare Di aprire La colonna Anche a costo Magari Che non so Di sacrificare Il cavallo Sì Sì Assolutamente Nel momento in cui Il bianco Va A giocare Questa L'incastro È molto difficile Attaccare L'unica cosa Che mi viene in mente Per attaccare È Non so Mettere la donna In C4 Portare la torrina 3 Portare la torrina In C3 Fare una piccola Batteria qui Ma basta Semplicemente Che il nero Toglie la torre Mette alfiere Di 8 E con un alfiere Che controlla C7 Buonanotte A tutti quanti Quindi io Ora posso organizzarmi Quanto voglio Per attaccare Sulla colonna C Ma basta Un piccolo Difensore Come questo alfiere Che è finito Tutto Quindi L'attacco È sfumato Ci vorrebbe probabilmente Un sacrificio Qui Quindi per esempio Riuscire a portare Il cavallo In C4 La donna In C3 È provare a fare Questo giochino Qui Questo giochino Tattico Però È veramente Veramente Lunga Come manobra Ok Il cavallo Se ne va Probabilmente Il bianco Vuole spingere Ma non c'è futuro Per quel pedone Arriva Arriva un attacco Ora sull'arrocco Finalmente Ok Spinta di questo pedone Che non ha futuro Il bianco Continua ad andare In una zona Che non ha futuro È troppo controllata È controllata Una volta Due volte Tre volte Questa casella Non c'è futuro Ora È il turno Del nero Che deve attaccare Ah qui C'è qualcosa A favore del nero Che mi sta sfuggendo Perché questa Perché la barra È totalmente A favore del nero C'è qualche scoperta Su questa donna Vediamo un po' Ah no Semplicemente Il cavallo era impreso Non l'avevo visto L'avevo visto Semplicemente È un cavallo gratis Ah Cavallo gratis E qui la partita Può già finire E qui Ho abbandonato Quindi Al di là di questa Che è una svista E le sviste Possono capitare Possono capitare a tutti Ai migliori Che cosa ho notato Ho notato Una serie di piccoli Errori strategici Quindi Il bianco Non ha dato importanza Ai cambi Mentre i cambi Hanno un'importanza Totale Fateci caso Guardate le partite Dei grandi maestri Quando fanno un cambio È perché credono sempre Di avere un vantaggio Non cambiano mai A caso i pezzi Qui piccolo errore Di concezione Qui bisogna giocare Sulle case bianche Quindi vai a bloccare Le case bianche Quindi limiti anche La forza D'attacco Del tuo alfiere E la mobilità Del tuo alfiere stesso Qui Una nuova Di sfianchettamento Un po' di attacco E qui Errore decisivo Che è stato quello Di permettere All'avversario Di chiudere Non bisogna permettere Il nostro avversario Che possa chiudere Se stiamo facendo Un attacco A questo punto Il bianco Doveva rendersi conto Che qui Non c'era speranza Ripeto Si poteva provare A fare Non so Un donna c3 Un cavallo c4 Attacco qui Ma sono veramente L'errore definitivo C'erano tante cose Qui sicuramente Un raddoppio C'erano tante cose A favore del nero Il cavallo in a2 È totalmente fuori gioco Ci avrebbero messo Un po' di mosse Per ritornare In azione Insomma Come vedete Una serie di piccoli errori Non ci sono stati Errori madornali Se non questo cavallo In h4 Che però Hanno portato Il bianco Alla fine A stare peggio Ok Ci fermiamo qui Quindi Che consiglio Possiamo dare Al nostro amico Innanzitutto Di capire Quando Lo dicevamo prima Di non affezionarsi Ai piani Qui il piano Il piano del bianco Era un attacco Sull'alladire di donna Ma l'attacco Sull'alladire di donna Dopo questa chiusura È svanito Quindi Bisogna cambiare i piani E dire Ok Che cosa Come faccio a reinventarmi E capire che Non c'è alcun tipo di futuro Su queste spinte Perché questa casella È iper controllata Tre volte Ragazzi Tra l'altro Due di questi Sono due pedoni Quindi È veramente difficile Quindi Imparare a Non affezionarsi i piani E a cambiarli Nel momento in cui Bisogna farlo Conoscere meglio La teoria del mediogioco Quindi io Conosso Bisogna studiare la teoria Ragazzi Se si vuole avanzare Bisogna iniziare a studiare la teoria E capire L'importanza dei cambi L'importanza degli alfieri Non affezionarsi sempre Al solito Rocco lungo Perché è una mossa Che dicono che sia d'attacco Dipende Sempre dalla posizione E niente Tutto qui Ragazzi Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto questo format Noi continuiamo E proverò sempre A dare i miei consigli Per quel che posso Per i giocatori Che ovviamente Hanno un elo più vasto Del mio Per cercare di aiutarli A migliorare In questa scalata Per tutti gli altri Che vogliono migliorare Matto Scacco Academy Trovate il percorso Che fa Alla vostra Che fa Alla vostra esigenza